Ciao a tutti ragazzi, fa un caldo bestiale. Oggi il Giro d'Italia si è concluso con la vittoria di Egan Bernard, tra l'altro corridore strevitoso che insieme a Caruso credo che siano stati gli unici che sono riusciti veramente a emozionarmi proprio sulle montagne. Tra l'altro credo che erano un bel po' di periodi che non si vedevano azioni belle come ad esempio quella di Caruso, è stata una bella gara, è stato un bel Giro d'Italia, a me è piaciuto. Ha vinto Egan Bernard, la cronometro ha vinto la vinta Ganna che batte il record vincendo 5 cronometro consecutivi al Giro d'Italia, quindi record assoluto. Però la cosa per cui faccio questo video è che l'ultima tappa quella cronometro è partita da Senago, Senago è il paese, a 100 metri dal mio. Quindi ho raccolto qualche fotografia e ve le volevo far vedere. Ciao a tutti, prossimo video, queste sono le foto. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.